Allora queste invece sono le polverine crom, anche queste prese su Aliexpress, questa violetta, questa verde petrolio, questa rossa che sarebbe quella che io ho qua, e questa verdina e questa qua, eccola qua, che poi pensavo fossero due colorazioni diverse, invece sono le stesse, queste qua due invece sarebbero due polveri che dovrebbero dare l'effetto catarin frangente, e invece lo danno ma talmente poco che le definirei inutili, perché oltre che in questo dito, e quindi come potete vedere l'effetto si c'è ma è proprio brutto, non è niente di particolare, è questo uguale. Poi altre polverine, queste qui, della Laila, questa è una silver, questa è la sorella gemella di questa, sarebbe la polvere Aurora, questa anche questa è silver, e anche questa è silver, voi mi direte che ci fai con tutte le cose uguali, queste alla fine me le hanno regalate, me le ha regalate una signora che stava chiudendo il centro estetico e per la prima volta nella vita ho ricevuto un regalo da qualcuno di questa roba qui, e quindi più che felice ben vengano, queste qui sono fantastiche, queste ancora non le ho provate, però deduco che sia buono anche questo, e niente, questo è quanto, sono una minimissima parte delle mie polveri, perché ne ho veramente da vendere, e niente, ciao a tutte!